Questo segno mi ha spettato e gravoso, mi ha spinto ad assumere questa importante decisione. Inizite incaricati di recuperare un carico di 4.018 noce abbronzanti da consegnare a ogni luogo strategico dell'invito. Tonno, questo pianeta è molto diverso da come lo ricordavo. Lei è sicuro di aver individuato la piattaforma spaziale che cercavamo? Lì, miseriaccia di suprostata, ci può scommettere lo monocoli? Aspetta che tenevo la maschia! Quale problema siete riusciti a individuare? È già tutto rientrato. Una bruciatura al naso. So cosa ha fatto. Questa è quella che credo che sia? Le compro 12 chili. Ma che è sta tanica fumanti? Non la tocchi! Lei non sa cosa può capitare a chi assume questa medicina senza averne realmente bisogno. Lo vedi quel piccolo pianeta desertico? È il pianeta Nemesi. Attenzione! Nuove coordinate insalite. Nuova destinazione. Pianeta Nemesi. È il pianeta così brutto che mi fa morire! Ti prepari per l'esperienza di una vita intera! Adesso mi friggiamo! Ti prepari per l'esperienza! ! Ti prepari per l'esperienza! Ti prepari per l'esperienza! Grazie a tutti